ciao a tutti oggi vi faccio vedere come noi insegnanti di religione che abbiamo veramente tanti bambini predisponiamo i lavori di Pasqua e di Natale prendiamo un semplice bicchiere di plastica trasparente nel quale mediante un cacciavite abbiamo praticato un bambini sempre mediante il cacciavite infiliamo in bicchiere un nastro rosso che prima abbiamo annodato quindi realizziamo un percorso col del nastro carta qui sopra i bambini incolleranno delle strisce di calza grigia o marroni per realizzare la grotta o la capanna i bambini colorano poi un'immagine della natività la potremo inserire nel bicchiere e anche stellare un lavoretto veloce e significativo